www.medusa-viola.it www.medusa.it 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 www.medusa-viola.it Vuoi venire a vedere la medusa viola? Ma ce l'ha preso viola? Eh sì! Ah, va, è molto bella. Tu parli inglese? Tu parli inglese? No. No. E puoi dire che la troviamo così adorabile che ci farebbe tanto piacere poterla abbracciare, per favore? Oh, c'è paura. È possibile? Oh, no. Si può, posso abbracciarla? Sì, posso. Grazie. Grazie. L'abbiamo messa in attimo, poi si avvicinava e abbiamo detto spostiamola che magari qualcuno non si ne è accorto. Mentre la stavamo per prendere, il ragazzino è iniziato a correre e se le prenda proprio addosso, si spiega un po' e se ne è accorto, si spiega un po', si spiega un po', si spiega un po', si spiega un po' e non si spiega un po' e voleva aiutarmi a prenderlo. Quindi di chi è la colpa? Sì, ma... Della melusa che esiste. Di chi è la colpa se bambina da prendere un po' e se spiega un po'